Tempo di manovre congressuali sia a livello nazionale che regionale per il Partito Democratico. Bisogna leggere con le primarie i nuovi segretari, regionale e nazionale, chiaramente le voci e le indiscrezioni corrono. Uno dei nomi più gettonati per la successione a Micaela Fanelli è quello di Carlo Veneziale, ex assessore regionale e sconfitto alla corsa per la presidenza in cui era avversario di Donato Toma e Andrea Greco. Ma Veneziale preferisce restare sul vago e dice per il momento di non fare alcuna previsione. Per quanto riguarda la mia candidatura dico che è assolutamente presto e che in ogni caso ne ragioneremo non da singoli ma da squadra. Per quanto riguarda l'ipotesi di spostamento è un'ipotesi tecnico-politica organizzativa perché essendo fissate le primarie nazionali per la prima metà di febbraio e quelle regionali per dicembre si sta discutendo di un'ipotesi di spostamento ma al momento questa ipotesi non è presa in considerazione e quindi rimane ferma la data per il 17 dicendo per la quale le diverse anime del partito si stanno confrontando e organizzando discutendo anche dell'ipotesi di un candidato unitario che non sarebbe male in questa fase. Il partito è partito in quanto discute al suo interno in questo momento è una fase di discussione ma sono certo che riusciremo a trovare la migliore via per ridare l'infa ad un partito democratico che oggettivamente è uscito acciaccato dalle ultime competizioni elettorali. Acciaccato ma non dormiente. Grazie mille. Grazie mille. Grazie mille. Grazie mille.